Inizio di stagione burascoso per Victor Simeon, dalle sirene arabe alla discussione contrattuale col Napoli, dall'addio di Spalletti all'appodo di Napoli di Rudy Garcia, con il quale il bomber nigeriano non ha feeling. Ed è più ci si è messa anche la società parteunopea di mezzo, con un video dalle finilità ironiche, che è stato poco apprezzato per usare un filmismo dallo stesso giocatore. Insomma, Ferri Corti tra il club di Aurelio De Laurentiis è il proprio numero 9. Che aprono la strada ad un possibile divorzio anticipato. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!